ieri sera siamo andati a mangiare la bagna cauda ovviamente non ho fatto tutta la parte di intro che di solito faccio nei miei video ma ve lo sto facendo qua in studio un po più comodo imparato qualche tecnica di video infatti dovreste vedere decisamente un po meglio il video così almeno credo cioè spero ma siamo andati a mangiare la bagna cauda ci hanno portato queste focaccine che vedrete queste mini pezzi di focaccia che vedrete che vedrete poc'anzi dopo aver mangiato questo micro pezzo di focaccia che come avete visto era veramente minuscolo quindi era proprio un entree c'è questo momento che sta avvenendo spero quando io parlo di questa colata di bagna cauda che viene inserita in questa ciotola riscaldata da una candela quindi è molto molto bella da vedere poc'anzi se non sbaglio la clip dopo dovrebbe essere della carne cruda mangiata molto anche quella molto buona e devo dire che il vassoio dei dolci non era per niente male ve lo sto lasciando sempre qua mentre io parlo in teoria e niente alla fine vi lascio una vi sto lasciando in questo momento credo una bellata una foto della nostra tavolata che era abbastanza numerosa quindi spero che per questa mini esperienza che vi sto portando in meno tempo possibile vi sia piaciuta perché a me è piaciuta devo dire che si mangiamo molto bene se qualcuno vuole andare a provare il ristorante si chiama il gufo bianco ma vi ricordo prima di andarmene di seguirmi sui vari social che sono tiktok perlomeno tiktok lo uso poco ma andatevi a seguire anche lì instagram e telegram telegram è nuovo quindi non potete perdervelo mi raccomando lasciate like iscrivetevi al canale cliccate la campanellina per non perdervi gli altri episodi e noi ci vediamo ad un prossimo video ciao ciao